In via Cerchio, a pochi passi dalle vie principali del centro storico, si trova la libreria di viaggi Lilliput, il luogo ideale per chi ama viaggiare con la valigia in mano, ma anche per chi ama visitare luoghi vicini e lontani, spostandosi solo con la fantasia e l'immaginazione, grazie a romanzi o a testi di approfondimento su tutte le parti del mondo. Sabato scorso alla Lilliput si è parlato del viaggio interiore e dei viaggi di Carl Gustav Jung e la psicologa Giancarla Tisselli ha presentato il libro rosso del famoso psichiatra, psicanalista e antropologo svizzero, pur ripubblicato nel 2010 dalla Bollati Boringhieri. La libreria Lilliput è un luogo un po' particolare di Ravenna. I libri che sono qui a disposizione, che sono in vendita, sono libri dedicati soprattutto al viaggio. Ci racconti un pochino come è nata l'idea di una libreria dedicata solamente a chi ama viaggiare? Mi piaceva l'idea di concentrare un po' di letteratura e di guide sul viaggio e su tutto quello che era inerente al viaggio. Infatti qui si organizzano eventi che parlano di viaggi o foto e quant'altro. Oggi siamo al secondo di una serie di appuntamenti. Il tema è appunto il viaggio. Ci racconti cosa è successo nell'appuntamento che c'è stato una settimana fa e in quello di oggi. Sì, una settimana fa è venuto uno scrittore di Roma, Mimmo Scipioni, che ha scritto un viaggio sulla Bolivia, una minestra di Quinoa, e ha fatto il suo racconto di viaggio, è stato pubblicato dalla Taurus, una piccola casa editrice. Lui ha presentato il suo viaggio presentando con delle foto e poi ha offerto un po' di minestra di Quinoa, una minestra tipica boliviana. Il secondo incontro invece è con la dottoressa Giancarla Tisselli e riguarda il libro rosso di Carl Gustav Jung. Nulla è il viaggio interiore, ma siccome è stato anche un grande viaggiatore si parlerà anche dei suoi vari viaggi che ha intrapreso in giro per il mondo. Dottoressa, perché parlare di un libro di Jung in una libreria di viaggi? Perché Carl Gustav Jung è uno psicanalista che, oltre ad avere grandi intuizioni sulla psicanalisi, ha fatto dei viaggi interni, interiori, dentro se stesso e ha scoperto delle cose molto interessanti. Ma era anche un grande viaggiatore. Quindi il viaggio con l'anima credo che sia il viaggio più interessante che noi nella nostra vita possiamo compiere perché, come diceva Socrate, conosci te stesso, ma anche come diceva l'enigma della sfinge, l'uomo è la più grande fonte di curiosità per l'uomo stesso. E quindi il viaggio interiore è un viaggio nell'introspezione. Jung era un introverso, ma che godeva anche dei grandi piaceri dell'estroversione e dell'incontro con altri popoli. È stato in Africa, in India, negli Stati Uniti, in molti altri paesi, in Messico, e da questi viaggi ha portato delle riflessioni molto ampie sulla psiche umana.